Direttore, un pranzo con la squadra qui alla San Mateo Church che ha un significato molto importante. Sì, vogliamo far sapere, siamo venuti con la squadra, con lo staff, con il coach, vogliamo far sapere che bisogna che diamo una mano ai nostri ristoratori, a chi ha locali, a chi ha alberghi, a chi ha negozi, perché comunque la situazione è difficile economicamente, ma sicura, perché uno può venire a pranzo liberamente, può passeggiare, venire qui e mangiare in serenità perché le regole vengono rispettate. Siamo a San Mateo perché comunque il Lollos Group è un nostro partner e vogliamo fargli sapere che è dura per tutti e noi ci siamo, vogliamo dare una mano. Dobbiamo però essere solidali, stringerci, cercare di guardare anche un po' in avanti perché comunque deve finire questa situazione, perché vuol dire che da una parte staremo meglio dal punto di vista sanitario, ma dall'altra anche la nostra economia potrà ripartire. Per cui noi combattiamo in campo, loro combattono all'interno dei locali, dei ristoranti, cerchiamo di vincere insieme. Venire a pranzo, venire a mangiare, frequentare i locali del centro è sicuro, perché voi ce la mettete tutta per fornire questa sicurezza ed è anche importante per aiutare un momento veramente complicato da un punto di vista non solo sanitario ma economico. Assolutamente sì. Noi come ristorante San Mateo in centro, ma comunque in tutti i miei locali dell'Ollos Group, in questo momento abbiamo delle vere difficoltà dovute alla situazione. Quello che vogliamo far capire alla gente è che venire a mangiare nel ristorante e nei locali, siccome vengono rispettate tutte le normative stabilite, quindi da DPCM, possono venire tranquillamente a mangiare, sono distanziati e quindi non devono avere paura di uscire, non devono avere paura di venire a trovarci, anche perché grazie ai nostri clienti riusciremo a sostenere, sostenersi in questo momento molto difficile. In un modo particolare, pensiamo solo a cose belle perché di cose brutte ne sentiamo tutti i giorni, noi come l'Ollos Group stiamo organizzando per il periodo di Natale, proprio per stare vicino ai nostri clienti, alle aziende e tutto quanto, una triplice possibilità. Abbiamo organizzato un'iniziativa che si chiama Bontà Natale, nel quale un cliente può decidere di acquistare un voucher di un costo dai 50 ai 100 euro, che potrà spendere o regalare in tutti i nostri locali dell'Ollos Group, fare un cesto di Natale, qui avremo tre tipologie di cesti, e per quelle aziende che purtroppo quest'anno non potranno usufruire del famoso pranzo di Natale aziendale tutti insieme, abbiamo deciso noi di andare a casa dell'azienda e quindi prepareremo un menu che il proprietario dell'azienda potrà regalare a tutti i suoi dipendenti, dove sarà un menu che sarà solo da rigenerare, quindi sarà legato anche un video dove la gente potrà seguire il video per rigenerare il piatto e magari collegarsi in videochiamata e fare il pranzo aziendale tutti insieme.